Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti con la serie delle 7 e con il sogno di questa squadra, raga guardate la classifica, siamo primi, e che cavolo, io dico guardate la classifica e me la cambi, siamo primi a 88 punti con 2 partite in più rispetto a Portsmouth e l'All City, rispetto a tutti praticamente, anche il Charlton ha 2 partite in meno rispetto a noi, però abbiamo 5 punti di vantaggio sul Portsmouth che è sotto di noi con 2 partite in meno. Raga, il nostro sogno continua, non abbiamo paura di niente, sogniamo occhi aperti, il nostro obiettivo è la Championship, quindi speriamo di riuscirlo a portare avanti con una qualificazione diretta. Detto questo adesso è il periodo di partire dal video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie, mi stava da affogare, e vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, i link sono in descrizione, e se volete supportare il canale con delle donazioni potete farlo tramite il link che trovate in descrizione tramite la funzione Paypal. Detto questo noi partiamo con il video. Allora raga, sono venuto con un attimo nella chat per vedere se c'era qualcun altro, qualcuno che si lamentava, che magari voleva giocare questa partita per forza, no, nessuno si lamenta. La formazione direi di lasciare questa, Vazzo dovrebbe essere tornato tranquillo e l'ultima volta si era lamentato del suo poco minutaggio, quindi leviamola adesso. Facciamo tornare Hamilton, ok. Drollo Mitchell, Esposito, ok. Mariani, Casadei, Casadei, non c'è il Casadei che ci fa le balatte, le balatte, ci invita tutti a Bologna a fine stagione per una mega party in una balera praticamente. Claudio Morris, va bene, io direi di confermare loro, Naga è un poco, cioè Naga che è un poco turbato, ma preferisco giocare con loro. La prossima partita faremo giocare Naga. Siamo in casa contro il Rotterdam, signori miei, sabato 19 marzo 2022, loro vengono da tre sconfitte di cui l'ultima contro l'Hakrington, noi che c'è famo? Ci vinciamo 4-0, mamma mia, che potenza che sto sti gamberetti, raga. Tripletta di Morris e un gol di Claudio, sono entrati Vazzo e Nicholson, Nicholson per Raid e Michella, Moniti, Salazar e Mariani. Va bene, bella così, bella così, 4-0, raga, senza discussioni, senza discussioni, continuiamo ad andare avanti, continuiamo ad andare avanti, signori miei. Non ci fermiamo, non ci fermiamo, giocatore è ristabilito, chi è che si è ristabilito? Harwood, ok, Harwood è tornato all'infortunio, meglio, buono così, buono così. Andiamo a fare gli allenamenti, raga, vediamo se possiamo un attivino, terzini difensori, sono ancora out, ok, allora continuiamo con i centrocampisti. Raid, Sala 71 e Amponzà, Sala 67, raga, rimane indietro Mariani, rimane indietro Mariani, che perde, secondo me, posti tra i titolari. Comunque, andiamo avanti con la classifica, raga, siamo a marzo, penso che questo è il prossimo episodio e finiremo la stagione, raga. Penso che questo è il prossimo episodio e finiremo la stagione. Allora, andiamo a fare qualche modifica? Ah, sì, abbiamo i giocatori impegnati in nazionale, ottimo. Allora, McKinley sicuramente non c'è, gioca Bremen, Hamilton, Salazar, Harwood mi sembra che è ancora rotto, drollo. Allora, facciamo un po' di cambi, qui torna Watanabe. A centrocampo mettiamo Amponzà e, ehm, Amponzà, Ponzà e basta. Sulla sinistra torna, no, aspetta, è in nazionale, eh, Raja è in nazionale, Nicholson è in nazionale. Ok, quindi l'esposito se la gioca, qui mettiamo Sullivan, così non si arrabbia. In attacco facciamo un rapido cambio, raga, mettiamo Naga e mettiamo anche Teco. Lo so che è un po' rischioso, raga, però devo far giocarli tutti. Devo farli crescere anche in vista della prossima stagione, raga, non posso tenermeli tutti belli conservati, carini e coccolosi. Devo anche un attimino rischiarli per dargli fiducia per la prossima stagione, raga. Sullivan penso che lo venderemo. Sullivan sulla destra penso che lo venderemo. Cerchiamo un esterno magari meno forte, ma anche meno voglioso di giocare, così lo facciamo crescere piano piano. Allora, contro il Colchester, sabato 26 marzo, loro vengono da una sconfitta contro il Soundtend. Che ce famo noi? Ai 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 ai, dai Teco, credo in te. 2 a 1 vinciamo, bella raga, grande così, 2 a 1. No, Raid l'ha pareggiato poco e poi CacciaDey con una ballata! Ha trovato il gol del 2 a 1. Allora, fuori Raid è Esposito che si è fatto male per CacciaDey e Mariani. Ammonito Sullivan, ok. Andiamo a vedere che si è fatto Esposito, raga. Andiamo a vedere che si è fatto Esposito. Allora, Vaz è contento, meno male. Vaz, sì, sì. Giocatore infortunato? No, Esposito l'abbiamo perso per due mesi, raga. Fine stagione per Esposito, porca miseria. Porca miseria, Esposito mio. Allora, Vaz è contento, apprezza il tuo impegno. Bravo, Vaz, bravo, Vaz. Bravo, Vaz. Andiamo a fare gli allenamenti. In questo caso stavolta alleniamo gli esterni, che non posso. Però i terzini stavolta possiamo allenarli. Ok, allora torniamo a allenare i terzini, che è un po' che non si allenano. Abbiamo anche due portieri. E, 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 e Iadama, sala 62. Bravo, Iadama. Bravo, Iadama. L'anno forse potete mandarti in prestito, Iadama. Insieme all'altro portiere. Come si chiama l'altro portiere? Boh, Brain, Brain, ma anche abbiamo mandato pure in prestito. Andiamo avanti, signori miei. Siamo sempre primi. Il fatto di aver giovane vuole andare via. Daniel Villalba. Andiamo a vedere che è sto Daniel Villalba, raga. Andiamo a vedere che è sto Daniel Villalba e se merita di essere tenuto. Allora, Malik e Iadama. E lui va bene. Amidu Abba. Attaccante sinistro, 52. Questo lo manderei via. Kiku Diagana. 15 anni, no. Teko Dudu. No. No. Guillermo Alvares. 15 anni, no. Daniel Villalba. Allora, sei un cdc. Sei un 43 e hai un potenziale fra 73 e 87. Villalba mio. Te ne vuoi andare tranquillamente? È stato un piacere. Te ne vai tu, non ti caccio io. Sei tu a sceglierti il tuo destino. Te ne andrai direttamente senza rompere troppo le scatole a nessuno. Te ne puoi, Teco Dudu, Teco Dudu, ecco, Teco Dudu, aspettate un attimo, Teco Dudu, ricordo che non era tanto malaccio, Teco Dudu, andiamo a vedere un attimo, Teco Dudu. Giovani protestanti, ecco, oggi questo episodio si chiamerà Giovani protestanti. Teco Dudu, è un C.O.C., un 54, 83, 89. Teco Dudu, a te ti promuovo, Teco. Teco, il fratello dell'attaccante, la coppia Teco. La coppia Teco l'ho promossa. Daniel Villalba, te ne puoi andare tu. L'attaccante sinistra, raga, Amidu, Amidu Abba. Porca miseria, un gran potenziale, Amidu. Amidu, un gran potenziale, teniamolo lì. Fino a quando non si lamenta lo teniamo lì, fino a quando non si lamenta lo teniamo lì. Andiamo avanti, signori miei, andiamo avanti. Mi sa che abbiamo la partita contro il Portsmouth, può essere. Abbiamo una serie di mail che sono arrivate, le seconde squadra giovanile, ok. Infortuni all'allenamento, bella così. Naga si è rotto per due settimane, ok. Aggiornamento dell'osservatore. Allora, dalla Svezza abbiamo Carl Bergstohn, 65-83. No, ti sei perso, stava facendo. Victor, questo ha un cognome leggibile. Joburg, meno male che sei inguardabile perché non avrei mai imparato il tuo nome. Johnson, no. Fred, zio Fred, no, inguardabile. Nistrom, no, neanche lui. Non siamo neanche sui 90 dobbiamo arrivare, raga, per essere interessanti. Dalla Spagna, Virgilio Duarte. No, no. Lino Oliveira. Eh, Lino Oliveira lo teniamo sotto l'occhio. Porca miseria, lo pigliamo proprio Lino Oliveira. Victor Valesquez, no. Ho perso più tempo a leggere. Javier Campos. No, Campos mio. Non sei interessante, non sei interessante. Mi fate vedere un attimo, un attimino, quel giovane spagnolo che ci siamo portati a casa, raga. Lo spagnolo, Lino Oliveira, 79, 94. Esterno sinistro. Ah, tutti esterni sinistri, abbiamo raga di 15 anni. Mi servirebbe un esterno destro. Abbiamo solamente esterni sinistri. Che paranoie. Che paranoie. Abbiamo esterni sinistri come se non ci fossero domani. Non abbiamo esterni destri. Il bello è che ho detto che voglio vendere O'Sullivan e non abbiamo esterni destri per sostituirlo. Allora, qui riportiamo i titolari. Ovvero Claudio e Morris. Che se non sbaglio però dobbiamo invertirli, sì. Sulla sinistra torna Cajadei. Che non è contento però torna a giocare. Amponzali lasciamo la partita. A posto di Red gioca Mariani. Ok. Esposito fuori per Nicholson che è tornato. Guadanape fuori per Mitchell. Salazar, Hamilton. È tornato Harwood? Harwood, 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 Harwood. Starwood. È ancora mezzo rotto. Dai, facciamolo giocare così si rompe di nuovo del tutto. Drollo va bene. E a posto di Bremant torna McKinley. Facciamo semplicemente un attimo... Sistemiamo un attimino qua dietro. Così abbiamo tutto bello, tranquillo. Ehm... Chi mi manca? Mi manca un attaccante qua. Ah, perché Naga si è rotto. Ok. Va bene, sì. Andiamo in campo con loro, ragazzi miei. Andiamo in campo con loro. Scusatemi che ho perso due secondi per sistemare la formazione. Però dai, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Andiamo a giocare contro il Portsmouth, giusto? Quindi... No, contro il Rockdale. Contro il Rockdale. Signori miei, il Portsmouth ha recuperato una prima partita. Ha 40 partite giocate. Noi ne abbiamo 41. Noi abbiamo 6 punti di vantaggio sul Portsmouth, signori miei. Io non vorrei cantare vittoria troppo presto. Vediamo cosa facciamo contro il Rockdale e poi chiudiamo l'episodio. Allora, sabato 2 aprile 2022. Loro vengono da un pareggio contro l'Hackrington. Noi che ci fanno? Ci vinciamo 3 a 0, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo due attaccanti paurosi, raga. Morris e Claudio. Doppietta di Morris e un gol di Claudio. Aveva uscito Harwood e Tretovaz. Va bene, intanto Harwood ha riassaggiato il campo. Bella così, raga. Bella così. Tantissima roba. 3 a 0 che vuol dire qualificazione. Abbiamo 6 punti di vantaggio sul Portsmouth che ha una partita in meno, raga. Quindi anche se il Portsmouth vince va a 3 punti. E dall'Al City abbiamo 11 punti di vantaggio con due partite in meno. Ok, va bene. Lì è più complicato. Quante partite rimangono alla chiusura del campionato? Rimangono le ultime 4 partite, signori miei. Che ci giocheremo tutte nel prossimo episodio, raga. Ci giocheremo tutte nel prossimo episodio e chiuderemo così la stagione. Detto questo, signori miei, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao! Ciao!